Il Natale rende tutti buoni e soprattutto chi lavora nel mondo sanitario si rende conto che far del bene significa molto per una comunità intera. Oggi siamo qui a regalare questo strumento che può servire a ragazzi con disabilità neuromotoriche importanti a sviluppare sicuramente un percorso assistenziale adeguato alle loro necessità. Un termografo come regalo di Natale per il centro di ipoterapia Bartolomania Ranch. Anche quest'anno gli infermieri e rettini hanno infatti rinnovato il loro impegno con un gesto di solidarietà. È un'associazione davvero che dà lustro alla città di Cortona e a tutto il territorio. Aiutare le persone più deboli è importante, la nostra filosofia, quindi avere una collaborazione tra pubblico e privato come in questo caso diventa per noi un orgoglio. Il termografo per la ricerca sui disturbi neuromotori e sui benefici della terapia a mezzo del cavallo è stato acquistato grazie al contributo di Roberto Prestigiacomo e sarà curato da Michele Giuseppi, studente del corso di laurea in infermeristica dell'Università di Siena. Siamo orgogliosi di essere i primi in Italia a utilizzare questo strumento con queste finalità, grazie anche all'ordine delle professioni infermeristiche, grazie all'Università di Siena che ha creduto in questo progetto. I benefici che si devono notare sperando di raggiungerli il prima possibile sia quello di fare dei percorsi più mirati e quindi ottenere miglior benefici su questi utenti che vengono da noi, sia ragazzi appunto da due anni di età fino ai 50-55 anni.